Do la parola a Cristina Scaraffia che ci spiegherà come usare al meglio il freelance camp. Cristina! È un onore aprire questa giornata, non parlo senza Zoom da tantissimo tempo. Ho deciso di parlare, sì, del freelance camp, ma di parlare soprattutto di fare rete, del networking. È un'attività fondamentale per noi freelance, è un'attività che io ci ho messo un po' a imparare a fare, o comunque a imparare a fare con costanza e anche un po' rispettando quello che è il mio carattere e il mio stile. E ho deciso di parlarne in ottica freelance camp perché io a questo evento devo tantissimo, e cercherò di raccontarvi anche il perché, e cercherò di raccontarvi come io ho sfruttato gli strumenti che il freelance camp ci offre. Quindi sono sei consigli che sono molto pratici. Prima di tutto, esponiti, esponiti con coraggio. Esporsi non è sempre facile, tentiamo di farlo magari attraverso i social, cercando di parlare del nostro lavoro, ma è un modo che noi abbiamo per farci conoscere, anche a livello professionale, far vedere in cosa siamo uniche e unici. Il freelance camp offre tantissime opportunità per fare questo. Prima di tutto le interviste, grazie a per esempio Silvia Versari, rispondere alle interviste può diventare anche molto divertente. Io mi mangio ancora le mani perché ho perso la domanda su che animale sei, prima o poi risponderò fuori intervista anche a questo. Anch'io non ho sempre voglia di raccontare di me, di parlare di me, però è il modo che noi abbiamo per farci conoscere, è il modo che noi abbiamo poi quando incontriamo le persone al freelance camp o nelle stanzette dello Zoom Club, anche per gli introversi e le introverse, per attaccare bottone, per iniziare una discussione. Quindi quando rispondiamo alle interviste cerchiamo di metterci nei panni delle persone che leggeranno, di rispettare il loro tempo. Cerchiamo di non essere eccessivamente minimali, sino ciao grazie, io a volte arrivo alla fine della pagina e non ho capito con chi ho a che fare. È un'opportunità, sfruttiamola. Quindi cerchiamo anche di non esagerare a raccontare troppo, interviste lunghissime che a metà mi è già scesa la barba, scusate. È un modo per fare marketing anche quello. Poi ci sono il networking corner a cui potete accedere grazie al Zoom Club. Io ve lo dico, ho parlato con altre persone che fanno come me. Se un cliente o una cliente mi chiede un servizio che io non offro e non mi viene subito in mente qualcuno, io vado nel networking corner e faccio una ricerca. Quindi filtro, ruolo, ho una pagina di risultati e devo decidere su chi cliccare. Quindi sicuramente la foto profilo attira l'attenzione. Se avete problemi con la vostra faccia, vi capisco, mettete il logo, mettete qualcosa che comunque dia anche la sensazione che il profilo sia aggiornato, sia curato. E poi sfruttate quelle che sono le prime righe della vostra presentazione perché saranno l'anteprima. Quindi le due righe che io vedo nei risultati. Quindi se io inizio la mia presentazione dicendo ciao, piacere di conoscervi, sono una libera professionista che aiuta le piccole e medie imprese, ci siamo giocati l'anteprima e la persona non ha ancora capito perché, che lavoro fai? E poi ci sono gli interventi. Io lo so che parlare in pubblico non è sempre divertente, vi capisco, però è una competenza trasversale che ormai ci viene richiesta indipendentemente dal nostro lavoro perché ci aiuta a avere sintonia con le persone, con il pubblico, anche quando facciamo formazione o ci troviamo a parlare con un gruppo di clienti in una riunione. Il freelance camp è un luogo dove noi possiamo allenarci come una palestra perché le persone sono amichevoli, cordiali, insomma non è come magari una conferenza in cui siamo tutti in giacca e cravatta e ci sono persone che ti fanno quelle domande critiche di cui avevi appena avuto l'incubo la notte precedente. Quindi lanciatevi con coraggio, alla fine nessuno vi giudica, forse soltanto noi stessi siamo i peggior giudici. Quindi, scegli in base ai tuoi valori. C'è una grande discussione all'interno della libera professione se si scelgano o meno i clienti e le clienti. Io non sono ancora arrivata a una risposta definitiva, ma quando faccio rete le persone le scelgo e le scelgo in base ai valori che mi sembra che rappresentino e le scelgo in base a quelli che sono i miei valori. Per esempio, guardo come le persone trattano gli altri, guardo se sono gentili, non le scelgo per la visibilità che hanno sui social, non le scelgo in base alla fama e neanche in base al ruolo professionale. Sembra controproducente, ma in realtà un'attività che è comunque lavorativa, che comunque mi richiede del tempo e dell'energia, diventa un'attività piacevole, diventa un'attività che mi sta dando modo di creare una rete di persone sincere, una rete che è potente ed estremamente efficace. Quindi comunica, comunica con trasparenza. Vuol dire che le relazioni di lavoro sono comunque relazioni. Abbiamo il diritto di contattare le persone per far conoscere i nostri servizi, per chiedere anche un consiglio, però sempre in modo diretto, in modo sincero, nel rispetto del tempo che le altre persone ci stanno dedicando. Io, per esempio, utilizzo proprio gli Zoom Club come programmazione e calendario, perché, insomma, presi da attività lavorative, quelle che poi fatturiamo, a volte dover programmare anche, di contattare le persone, fare networking, non è sempre semplice. C'è uno Zoom Club una volta al mese. Io so che prima di quell'evento magari mi ricordo di scrivere, perché io amo scrivere più che parlare, anche se non si direbbe, a una persona che mi è piaciuta, che mi ha incuriosito, con cui ho voglia di approfondire la conoscenza. Io uso le mail, uso LinkedIn, i messaggi privati, perché sono i luoghi dove io sto meglio. Poi potete usare i canali che preferite. E sfrutto anche lo Zoom Club per conoscere persone nuove. Dopo gli Zoom Club se ho incontrato qualcuno che mi ha incuriosito, con cui mi sono trovata in sintonia, la contatto, lo contatto, cerco di, appunto, man mano costruire una relazione. Per esempio qua c'è Lara Lombardi, che ho conosciuto, penso a uno Zoom Club, e comunque l'ho conosciuta grazie al freelance camp, e ogni tanto noi ci stiamo incontrando per fare delle pause di lavoro via Zoom, le chiamiamo pranzi di lavoro, ma in realtà parliamo di tutt'altro. Sono comunque relazioni, relazioni che a me stanno dando molto anche dal punto di vista umano. Quindi costruisci le relazioni, costruisci relazioni di valore. L'economia relazionale intende le relazioni come degli scambi in cui, appunto, le persone sono un impegno a lungo termine. Quindi focalizziamoci sulle relazioni sulle persone invece che solo su degli obiettivi che sono immediati. Siamo lungimiranti. Cerchiamo di capire che ci sono percorsi che non sono sempre diretti anche per incontrare clienti o incontrare persone. Il networking serve per lavorare meglio, lavorare di più. Funziona perché il passaparola in realtà fa conoscere noi e il nostro lavoro. Io, il mio primo freelance camp nel Roma 2019, io sono arrivata molto ingenuamente pensando di ascoltare degli interventi interessanti, poter fare domande. C'era una giornata prima degli interventi con delle lezioni meravigliose di Alessandra, di Luigi Centenaro. Quindi, grandissima qualità dei contenuti. E poi ho parlato con tantissime persone, ho incontrato tantissime persone e ho lavorato, mi sono arrivati dei clienti, lo dico ancora sbalordita, però è così. Quindi, anche io che lavoro principalmente con imprese e non con liberi professioniste, liberi professioniste. Quindi, esplora con curiosità. Noi esseri umani abbiamo bisogno di avere dei punti di riferimento, però abbiamo anche bisogno di uscire dalle nostre bolle. e il freelance camp anche con gli Zoom Club dà la possibilità proprio di esplorare. Noi siamo anche esploratori, esploratrici, secondo me, ma questo per farlo ci vuole un po' un'attitudine, cioè dobbiamo rimanere aperti e aperti a quello che è l'inaspettato, a quello che è l'improbabile, rimanere aperti a incontrare anche persone che non avremmo mai immaginato. E questo è fondamentale secondo me perché abbiamo anche una responsabilità verso il nostro lavoro e verso la nostra vita. È sempre più importante avere un equilibrio psicofisico che quindi ci intende come esseri umani in un senso profondo e in un senso anche ampio. Quindi, condividi con generosità. Esiste la generosità emotiva. significa avere al cuore il successo delle altre persone indipendentemente dal proprio successo, indipendentemente dal proprio vantaggio. In questo, secondo me, noi possiamo agire portando valore nella rete, sì, nei social, in tutte le piccole cose che facciamo anche che riguardano il nostro valore. Secondo me, abbiamo appunto, scusate, delle scelte rispetto ai nostri valori e che vi dico, per me funzionano anche poi a livello concreto nel trovare persone, clienti. Io, grazie al freelance camp, ho incontrato clienti con progetti molto grandi, ho anche incontrato persone a livello umano e professionale interessanti, persone che hanno risposto anche alle domande che avevo su nuove attività che stavo svolgendo. Ho trovato persone, colleghe, colleghi con cui sto costruendo anche dei progetti di collaborazione lavorativa. L'altro giorno stavo parlando con una professionista di Roma che ho incontrato proprio al freelance camp e gli stavo dicendo allora ci vediamo, vieni, era molto basito per fare una citazione colta, mi ha detto no, guarda, io non vengo, ho detto ma come? Io al freelance camp ho trovato tantissime persone, ho trovato lavoro, ho trovato, e lui mi ha guardato proprio, poi come fanno i romani, scusate la pronuncia non è giusta, ma mi ha detto proprio ma che, davvero? Cioè proprio, e io mi sono fermata un attimo e ho capito che sì, il freelance camp è una grandissima opportunità, io sono eternamente riconoscente a Alessandra Farabegoli, a Silvia, a Versari, a Lara Lombardi, a Simone, anche Martelli, a tutti quelli che ci lavorano perché tra l'altro è uno sforzo di tempo e di energia incredibile, però io ho messo anche il mio tempo e la mia energia per il freelance camp, ho preso gli strumenti e ho cercato, non è caduto qualcosa dal pero, quindi ho messo nella rete il mio valore, la mia generosità, la mia fiducia, il mio tempo e la mia energia, quindi se c'è un consiglio che io vi posso dare per quella che è la mia esperienza e che riguarda fare rete e che riguarda in generale il nostro lavoro è siate persone generose, siate persone gentili e siate persone coraggiose. Grazie.